Ecco la partita di oggi probabilmente prenderai quei gigabyte della partita e li salverai sul computer dopo dopo la prestazione contro l'Enic nel derby? No non penso sono molto contento della della partita di come si è andata perché era una partita comunque molto attesa sia dal pubblico che da noi quindi è stata tosta è stata una bella partita una bella atmosfera e siamo contentissimi di essere riusciti a portarla a casa. Ecco prima i due quarti dove praticamente a livello di punteggio hai essenzialmente giocato giocato te e poi una volta rientrati dagli spogliatori invece tutta la squadra ha dato una grossissima mano e siete scappati ecco qual è stata la miccia che vi ha fatto scoppiare per il rientro? Ma sapevamo che loro comunque erano molto motivati per provare a vincere quindi sapevamo che avrebbero iniziato molto forte quindi siamo riusciti a rimanere calmi fortunatamente e a non andare nel panico e siamo riusciti poi nel terzo quarto a rientro alzare l'intensità difensiva che ci ha permesso di andare avanti e di creare il gap.